scatman's world riprendiamo la campagna raga vai abbiamo finito il video scorso, mancavano 9 turni nel programma appollo l'estate dell'ora è finita qua si mette una vita, che spazio il marino nucleare vabbè, non c'è niente di scientifico vabbè, questi cartiginesi hanno fatto veramente un esercito incredibile però anche loro hanno i fucilieri e tutto eh, questa campagna è dura, perché comunque non ho mai fatto l'avventura tecnologica non sono così tranquillo, nel senso vedo nazioni che hanno tanti punti di meno non capisco il perché, cazzo in verità hanno veramente tante tante città, più colti guarda, guarda quanti tecnologie ho in più boh, questo è un po' una capissima sono già all'epoca ton moderna, la dell'informazione boh, non capisco bella che sboccio bella, ho scoperto tutta la mappa wow vediamo qual era l'altra niente che non mi pare ne pericolo ah, forse perché ha perso la ha perso la capitale e tutto, forse boh e quindi non l'ho conosciuto, non lo so, non capisco ok cazzo, per la prima volta vedo la mappa tutta completa, una figata grito di passaggio insomma, senti uniti ah beh, cazzo, guarda quanti ne hanno eh, direi di sì puttana merda una, due, tre, quattro, cinque, sei, sete, otto, nove dieci, undi sì, ciao undici città però anche questo Stati Uniti ne ha undici eh sì, va bene impressionante impressionante undici sono tante ecco perché è in vantaggio anche Maria Teresa ne ha tante eh, per quello, solo per quello sono in vantaggio dai speriamo sia una città del cazzo roba tecnologia, bello eh, sì andiamo bene indietro e questa Maria Teresa ha compreso madonna, quante ne sta facendo cazzo ok, progetto Apollo completato quindi adesso possiamo cominciare a costruire i pezzi dell'astronave teoricamente Washington entra nell'epoca atomica ragazzi, qua ci si gioca tutto ok, abitacolo astronave non si metto troppo tempo adesso sono bel grandi ingegnere, me vori guarda che bello dai, qualche missile è stupendo cazzo voglio vedere il missile che parte dai, cavolo posso capire quanti sono i pezzi ci sono quattro quindici, trenta quattro e cinque ce la dovrei fare sono cinque so cazzi con un grande ingegnere ma eh sì fatalità quando serve a proposito nessuno ha carbone ok, il carbone mi dava la fabbrica e poi mi dava la possibilità di dom è un'altra ma nessuno che ha carbone ma porca miseria ma che sfiga saludos sì, saludos un paio di coglioni saludo buongiorno bravo bravo no che credo non ho ancora la tecnologia della fabbrica sono deficiente come, sì che ce l'ho dai che posso costruire, forse se la faccio con i soldi posso costruire l'edificio che mi velocizza la costruzione dell'astronave no ma non capisco perché ma mi prende per il culo aspetta, scusate ragazzi richiedono di carbone e fabbrica scusate panico come indiano boh, non comprendo va bene forse sono già nell'epoca moderna quindi non mi serve più però qual è la tecnologia che mi fa scoprire allora vediamo la fabbrica di astronavi eccola qua questa devo fare eh non ce la faccio no dobbiamo ancora scoprire tante tecnologie cazzo come indone devi muoverti eh se no andiamo a perdere questa questa campagna spero che stai tra la torre non ti resta più un cazzo del ferro va a cagare madonna guarda che indietro che siamo di là cazzo cazzo non posso due turni per i fertilizzanti cazzo ho scoperto come fare le astronavi due turni per i fertilizzanti ma dai dai cazzo per cortesia è vergognoso è vergognoso ho bisogno di grande scienziato ho bisogno vai tre turni per la dinamita boh questa roba non la capisco sinceramente speravo un turno per tutte queste qua bella 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 questa me la uso non mi ricordo sono 300 i turni più progressisti ok quindi sono in vantaggio anche qua perfetto quindi insomma teoricamente sono in vantaggio solo per il numero di città questa è una cosa positiva sì tu speri sempre però sei sempre l'ultima in classifica Washington entra in epoca dell'informazione cosa vuole fare questo pio de una mignota vuole fare la vittoria diplomatica è la seguente dobbiamo correre se vogliamo vincere ah dio mio per me Washington sta tentando la vittoria diplomatica speriamo di no si è arrivata adesso l'informazione vediamo quanto gli manca eh no questo che aspetta bella che figata che è il propulsore ha nu crasciav di berwa il rischio grosso secondo me porca miseria se Washington mi doveva rompere le balle così ok fisica da particella fatto io non capisco perché ci deve mettere quattro turni a fare una ferrovia del cazzo cioè vabbè non comprendo perché ho 532 tecnologie ho scoperto il mondo no quattro turni per la ferrovia è il seguente il trade mi viene vai comandone direttamente la via dopo il rodosio mi spagga ancora il cazzo spero siamo uguali per il cazzo del capitale lo chiamo questo maledetti 274 turni non ce la fa ecco ormai poco da fare ragazzi devo velocizzare qua sennò ce l'ho in culo buono boccata all'ossigeno eh siamo ancora indietro però oi dai raga questa campagna se sono 300 i turni non ce la faccio poi se lo stronzo vuole fare la vittoria diplomatica maledetto d'altronde non posso costruire i pezzi a busan perché ci mette troppo tempo non ha senso guarda che bella tutta la mappa solo una vittoria diplomatica a mio parere o la fine dei turni perché anche è vero che se si finiscono i turni in questo momento ho perso anche se non è mai successo di arrivare quindi non so bene però sulla carta motore dell'astronave a questo punto mi butto e tento l'impossibile e spero che guarda questo boh questo è un giocatore sconosciuto per me è un bene qua dormo però potevo fare che pirla anche uno in più in tecnologia conta cazzo 1993 ragazzi finisce le 1050 e si secondo me Washington ha completato il programma a pollo anche lui tenta invece quella attention attention in realtà non è ancora finita ragazzi adesso devo veramente ragazzi ho bisogno di un ingegnere anche io ho provato il progetto a pollo quindi Maria Teresa io non penso sia per le Nazioni Unite a questo punto perderla per fine turni è veramente una beffa per pochissimo poi ma ma mia chiamola eh ragazzi 10 turni 1999 forse non ce la faccio per un pezzo non voglio dire niente ragazzi ormai ci siamo oggi ho volo di vaneggiare